Un ringraziamento particolare alla Regione Puglia che ha organizzato l'evento di oggi, al quale non mi è possibile intervenire a causa di concomitanti impegni istituzionali. Oggi abbiamo una bella notizia da condividere, portiamo a casa un risultato importante grazie al lavoro di squadra tra i tecnici del Dipartimento per la trasformazione digitale e il territorio. Mi riferisco all'apertura della rete dei punti di facilitazione digitale in Puglia. Avevamo e abbiamo ancora un problema da risolvere. Il nostro Paese soffre infatti un divario di competenze digitali che è grave rispetto all'Europa. E questo ritardo ci penalizza, rallenta la diffusione del digitale e dei suoi benefici, ci rende meno competitivi e pone i nostri cittadini in una condizione di debolezza rispetto ai rischi stessi della tecnologia. Il nostro obiettivo è arrivare al 2026 con il 70% della popolazione in possesso delle competenze digitali, almeno quelle di base. Per colmare questo gap come Dipartimento abbiamo messo in campo diverse misure. Tra queste uno strumento fondamentale è certamente rappresentato proprio dalla rete dei punti di facilitazione digitale. Ogni punto è un vero e proprio presidio sul territorio, realizzato per avvicinare alle porte dei cittadini di conoscenze spesso percepite come troppo distanti o difficili da apprendere e che rischiano pertanto di creare esclusione sociale o acuire disuguaglianze già in atto. Se vogliamo si tratta di una questione di etica prima ancora che culturale. E per questo motivo, e per aiutarci a sostenere e a diffondere le competenze digitali in modo capillare qui in Puglia, nei prossimi mesi verranno creati 231 nuovi posti di facilitazione per raggiungere entro il 2025 183 mila cittadini con nessuna o basse competenze digitali. All'interno dei punti di facilitazione digitale ciascuno potrà trovare un'offerta di formazione adeguata alle proprie esigenze. L'approccio flessibile dai percorsi di formazione personalizzata a quella online o di gruppo ci consente di intervenire nelle diverse regioni andando incontro alle esigenze anche dei territori. In tutta Italia, grazie a un investimento PNRR di 135 milioni di euro, realizzeremo 3000 punti di facilitazione digitale. Ogni punto è un ponte. Porta i nostri cittadini, senza distinzione d'età, di genere, di censo o di grado di istruzione, a sviluppare un uso autonomo, consapevole, responsabile delle nuove tecnologie, a godere pienamente dei diritti di cittadinanza digitale attiva e a fare un uso maturo, gratificante, dei servizi online. Inoltre, il progetto può offrire ai giovani volontari inseriti nei punti di facilitazione digitale un'utile occasione di formazione e di apprendimento sul lavoro. Non mi resta quindi che augurare a tutti voi buon lavoro, certo dei buoni risultati che verranno raggiunti per proiettare il nostro Paese verso il futuro. Un caro saluto e buon lavoro.